E ben ritrovati con le notizie in 60 secondi. Scosse di terremoto registrate nella zona dei campi Flegrei nelle ultime ore. Due di una certa entità avertire dalla popolazione, la prima di magnitudo 2.3 rilevata alle 20.53 di ieri venerdì 11 ottobre ad una profondità di 2,4 km con epicentro in zona Solfatara, Pozzuoli. La seconda registrata stamani in mare nel golfo di Pozzuoli ad una profondità di 3,4 km alle 6.54 di magnitudo 2.5. Campi Flegrei, prove di evacuazione. Molte le persone che si stanno registrando al punto di raccolta in via Antonino Pio al rione Toiano di Pozzuoli a pochi passi dalla sede del comune per partecipare all'esercitazione ex 2024 delle prove di evacuazione in corso di eruzione dei campi Flegrei. Intensificare i controlli sui cantieri di lavori pubblici anche a dischi al fine di evitare infiltrazioni malavitose. Lo ha sottolineato l'assessore regionale Morcone. Anche sull'isola con i lavori per la ricostruzione bisogna tenere gli occhi aperti. Qui con il protocollo specifico sono state messe in campo contro misure significative. Isolane oggi in campo, Rialforio ospita la Virtus a Fragola. Barano visita il punto di svolta, il Procida in casa affronta il Rial San Giovannese. Prossimo appuntamento questa sera alle ore 20. Grazie per averci seguito.